Consultare documenti storici, soprattutto documenti medievali, richiede sempre molto tempo, molta pazienza. In Archivio Vaticano abbiamo 85 km lineari di documenti, più o meno la lunghezza del canale di Panama. Le scritture, le scritte nel Medioevo, sono diverse da quelle che noi conosciamo. Se qualcuno mi chiedesse un giorno di trascrivere e tradurre tutti i documenti dell'Archivio Vaticano, sicuramente gli direi che è un matto. Looking at this book, page by page, and trying to decipher, read and transcribe whatever is there, takes an enormous amount of time. It would require an army of paleographer. What I'm excited the most about machine learning is that it enabled us to solve problems that up to 10-15 years ago we thought unsolvable. In Codice Lazio è nato da quest'idea di costruire un software per poter interpretare, per poter leggere quello che è scritto dentro i manoscritti. Quando abbiamo iniziato ad approcciare il problema ci siamo resi conto che una soluzione basata su reti neurali fosse assolutamente necessaria. La scelta su TensorFlow è stata abbastanza naturale. Before using any kind of machine learning model, we needed to collect data first. You have thousands of images of dogs and cats in the internet, but there's very little images of ancient manuscripts. We built our own custom web application for crowdsourcing and we involved high school students to collect the data. I didn't know much about machine learning in general, but I found it very easy to create a TensorFlow environment. When we were trying to figure out which model worked best for us, Keras was the best solution. The production model runs on TensorFlow layers and estimator interface. We experimented with binary classification with fully connected networks and finally we moved to convolutional neural network and multi-class classification. In poco tempo siamo riusciti a sviluppare e a testare le prime soluzioni. When it comes to recognizing single characters, we can get 95% average accuracy. Poter accedere a uno strumento informatico abbrevia notevolmente. Sciogliere certe abbreviazioni, comprendere un testo in quella scrittura così criptica è un qualcosa di eccezionale. This will have an enormous impact. In a short period of time we will have a massive quantity of historical information available. I just think solving problems is fun. It's a game against myself and how good I can do. Lo studio della storia è importantissimo per comprendere il nostro presente e per avere anche una prospettiva per il futuro.